Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 6 km di coda per un incidente adesso risolto al km 276-600 tra Firenze e Impruneta, il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Mare, un km di coda per lavori tra Ponte d'Era Est e la dilamazione per Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra Siena-Acqua Calda e Siena Nord, in direzione Firenze, e tra Firenze-Impruneta e San Casciano in Val di Pesa, in direzione Siena. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!